Buongiorno da Sicilia 24, ben ritrovati su Spazio Notizia. Apriamo questa edizione parlando di cronaca con una notizia da Ragusa, un'importante operazione dei carabinieri della compagnia di Ragusa è in corso dalle prime ore di questa mattina nei territori dei comuni di Ragusa. E' vittoria con l'esecuzione di 11 arresti a carico di altrettanti soggetti coinvolti nella gestione di un traffico di stupefacenti sul capoluogo Ibleo e provincia. Complessivamente sono impiegati 75 militari unitamente a due unità cinofile e ad una squadra dei carabinieri cacciatori di Sicilia impegnati in perquisizioni e sequestri. Su questa notizia approfondiremo nel corso della giornata, nelle prossime ore arriveranno certamente maggiori dettagli e ovviamente ve li daremo subito appena saranno disponibili. Intanto andiamo avanti ancora con la cronaca, ci spostiamo virtualmente a Sciacca, da venerdì scorso siamo nell'Agrigentino, si erano perse le tracce di Amedeo La Rosa, 44 anni. Ieri pomeriggio l'uomo è stato ritrovato ma era morto, si trovava sulla via Can Salamone nella parte sottostante un viadotto che collega il centro abitato con la contrada Perriera. La procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'indagine, al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Il fratello di Amedeo La Rosa proprio ieri mattina aveva pubblicato un appello su Facebook rivolto a chi eventualmente avesse visto il proprio congiunto affinché fornisse informazioni. Ebbene come detto Amedeo La Rosa è stato ritrovato cadavere e dunque adesso sono partite le indagini per fare luce su questa vicenda e anche in questo caso qualora ci fossero degli aggiornamenti ovviamente vi daremo conto di tutto quello che accadrà. E adesso torniamo invece sul grave incidente mortale avvenuto a Corleone perché ci sono degli sviluppi importanti. Intanto la notizia della scomparsa di Giulia Sorrentino, 18 anni, e Rosario Leto, 16 anni, le vedete nelle foto, vittime come detto di un tragico incidente stradale, ha ovviamente sconvolto la comunità di Corleone. Il sindaco infatti ha proclamato per il giorno dei funerali il lutto cittadino ordinando anche l'esposizione delle bandiere del comune a mezz'asta. La procura di Termini Merese che sta indagando sulla vicenda ha disposto l'autopsia sui due corpi. Intanto emergono le prime ipotesi sulla dinamica dell'incidente alla guida dell'auto che è finita in un burrone a Corleone. A quanto risulta potrebbe esserci stato il sedicenne morto nello schianto, il quale non aveva ovviamente la patente ma avrebbe preso comunque la macchina del padre di nascosto. Questa è una delle indiscrezioni raccolte tra gli amici dei ragazzi ma attenzione gli investigatori non hanno ancora confermato questa versione, stanno lavorando chiaramente per ricostruire il fatto e fare luce su una vicenda tragica. Al momento dunque non ci sono notizie certe, non ci sono conferme, l'unica certezza purtroppo è la scomparsa di questi due giovanissimi vittime dell'ennesimo incidente stradale in Sicilia e dunque come detto la città di Corleone è chiaramente scossa e il sindaco ha dichiarato il lutto cittadino. Ci ritroviamo purtroppo questa mattina a parlare di un altro incidente mortale avvenuto stavolta a Castiglione di Sicilia. Ieri pomeriggio sulla strada strada stradale 120 in territorio come detto di Castiglione per cause ancora sconosciute un 53enne ha perso il controllo della sua vettura ribaltandosi nell'impatto una donna di 67 anni che era seduta dietro ha tragicamente perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco di Randazzo e diverse pattuglie dei carabinieri e personale dell'ANAS. Un'altra donna è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania anche lei con ferite gravi. A causa dell'incidente la strada è rimasta bloccata per diverse ore e poi è stata riaperta in serata. Dunque ci ritroviamo anche questo inizio di settimana a parlare purtroppo di un weekend tragico per le strade siciliane con diversi morti. Questa signora come detto a Castiglione di Sicilia di 67 anni, prima i due ragazzi, due giovanissimi a Corleone, dunque un altro bilancio pesantissimo nell'ultimo fine settimana. Parliamo ancora di cronaca, questa è una notizia invece che ci arriva da Trapani, una spedizione punitiva, pensate. Un 29enne che attualmente si trova a casa in regime di arresti domiciliari è stato raggiunto nella propria abitazione nel quartiere popolare di Cappuccinelli ed è stato ferito alle gambe con alcuni colpi di pistola. Il ragazzo, credendo che si trattasse di un normale controllo da parte delle forze dell'ordine, come detto è ristretto a casa ai domiciliari, ha aperto la porta senza alcun sospetto ma immediatamente è stato raggiunto dai proiettili che lo hanno colpito alle gambe. L'aggressore in un primo momento non aveva detto nulla ma poi le ferite erano peggiorate, allora a quel punto ha chiesto aiuto, sono intervenuti i carabinieri che a loro volta hanno chiamato i soccorritori. Quindi, prime cure a casa, poi il 29enne è stato trasportato all'ospedale Sant'Antonio Abbade dove è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita, vittima che ovviamente verrà sentita dagli inquirenti per fare luce su quest'altra situazione decisamente anomala, come detto questo 29enne, questo ragazzo ai domiciliari che è stato gambizzato a Trapani. Cambiamo adesso argomento, parliamo del Covid, andiamo a vedere i numeri dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, dunque i numeri che si riferiscono alla giornata di ieri, domenica 15 maggio, in calo i nuovi casi sono 1837 a fronte di 15.524 tamponi processati in Sicilia, quindi vedete c'è questo saliscendi di numeri, ovviamente diminuisce il numero di tamponi, diminuisce chiaramente anche il numero di nuovi casi, però è un dato costante, ecco il fatto che i nuovi casi Covid in Sicilia continuano a decrescere è ormai una costante da parecchie settimane, comunque attualmente il tasso di positività è all'11,8% con la Sicilia che è al settimo posto in Italia per contagi, gli attuali positivi sono 95.867, mentre i guariti sono 1.956, purtroppo però si registrano altre tre vittime e il totale dei decessi dall'inizio della pandemia in Sicilia sale a 10.766, sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 670, 16 in meno rispetto alla giornata precedente, in terapia intensiva invece 38 persone, in questo caso c'è stato un leggero incremento, due in più rispetto alla giornata precedente. Per quanto riguarda i nuovi casi a livello provinciale, stavolta è Messina, la provincia a registrare il maggior numero di nuovi casi, 586, poi a Catania 479, a Palermo 461, questo lo ricordiamo sono i numeri del bollettino di ieri, poi in serata il Ministero darà il bollettino di ieri con i dati aggiornati, ovviamente vedremo l'attuale situazione. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità ha fornito il consueto report settimanale, i casi Covid e le ospedalizzazioni sono in diminuzione in tutta Italia, crescono invece le reinfezioni. Allora vediamo nel dettaglio nel nostro servizio tutti questi dati. Continuano a calare le curve dell'epidemia di Covid in Italia, con una diminuzione del tasso di incidenza e dei ricoveri, mentre sale il numero delle reinfezioni e si registra un lieve aumento anche dei decessi su base settimanale, spiegabile tuttavia per il maggior numero di casi nel mese precedente. In Italia, nel corso dell'ultima settimana, secondo il report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità, i casi di Covid e le ospedalizzazioni risultano in diminuzione, sono stabili i ricoveri in terapia intensiva e in leggero aumento i decessi, dato però collegabile ai casi registrati circa un mese fa quando la curva saliva. Continua inoltre a diminuire l'incidenza settimanale dei contagi a livello nazionale, ma il dato più evidente è la crescita delle reinfezioni. Sono segnalati infatti 438.726 casi, pari al 3,6% del totale dei casi notificati e nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid risulta pari al 5,8% in aumento rispetto al 5% della settimana precedente. Sulla base dei casi finora osservati, ha spiegato a Lanza Massimo Andreoni, direttore malattie infettive del Policlinico di Roma Torvergata, è emerso che le reinfezioni possono portare a una accentuazione della sintomatologia del Long Covid, anche se in un quadro che resta comunque di minore gravità rispetto alle situazioni di Long Covid determinate da infezioni primarie. Il report infine conferma l'efficacia dei vaccini. Il tasso di mortalità per i non vaccinati è infatti circa 4 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni e circa 7 volte più alto rispetto ai vaccinati con booster. Ed ora la politica con il Presidente Nello Musumeci che ha parlato in occasione delle celebrazioni organizzate a Palazzo d'Orleans per il 76esimo anniversario dell'autonomia siciliana. All'inizio di questa legislatura, dichiarato il Governatore, avevo formulato davanti al Parlamento siciliano due auspici. La riforma del regolamento che disciplina l'uso o l'abuso del voto segreto è il varo di un codice etico per i membri del Governo, del Parlamento e della burocrazia regionale. In tutte le assemblee pubbliche lo scrutinio segreto è richiesto solo per gravi decisioni, in casi comunque rari, dice Musumeci. In Sicilia se ne fa un abuso costante fino a farlo apparire non uno strumento di dissenso, dice ancora Musumeci, che si manifesta palesemente, ma uno strumento di vendetta o, peggio ancora, un modo per coprire intese trasversali tra opposizioni e parte della coalizione di governo. Gli elettori, ha proseguito Musumeci, hanno il diritto di controllare il voto dei loro eletti e verificarne la fedeltà al mandato ricevuto. Ecco perché rimane vivo l'auspicio di una modifica della norma regolamentare dell'Aula che riaffermi il principio generale dello scrutinio palese, con rilevanti eccezioni nel caso di voto su persona o su provvedimenti che toccano principi di libertà sanciti dalla Costituzione. Queste dunque le dichiarazioni del presidente Musumeci, come detto, in occasione del 76esimo anniversario dell'autonomia siciliana. Cambiamo ancora argomento, sembra essere arrivata l'estate, ieri tante persone hanno approfittato del caldo e della bellissima giornata per scendere in spiaggia, ma qual è la situazione? Beh, anche la Sicilia deve avere a che fare con l'anticiclone Hannibal, l'anticiclone africano che farà alzare le temperature di almeno 8 gradi sopra la media del periodo. Nei prossimi giorni dunque si preannunciano temperature ancora più alte, con valori record, anche se gli esperti parlano di una tendenza ancora da confermare. Si parla di picchi addirittura di 33 gradi con AFA e temperature tipiche del mese di luglio. Queste temperature elevate si prevedono almeno fino al 20-22 maggio, anche se tutto ovviamente dovrà ancora essere confermato man mano che si andrà avanti con le giornate, ma a quanto pare si può già tirare fuori il costume. Come detto nella giornata di ieri, molte persone nelle varie località balneari della nostra Sicilia hanno approfittato del sole, del caldo, delle temperature alte per recarsi in spiaggia e fare, perché no, il primo bagno della stagione. In fondo la Sicilia è anche questa, ecco, la primavera è già quasi un ricordo, siamo veramente entrando in estate. E allora faremo i conti, come detto, con l'anticiclone africano Hannibal. Vedremo nei prossimi giorni se in effetti saranno confermate queste temperature. Per il momento non ci sono aggiornamenti, dunque ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo più tardi con una nuova edizione di Spazio Notizia. Vi aspettiamo. Grazie. Grazie.